Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi parleremo di Alice di Battenberg, l'eroica e tragica vita della suocera della regina Elisabetta II. Ricordo quanti non sono iscritti, più o meno 6-7 persone su 10, di iscriversi a Vanilla Magazine per dare sempre più forza al nostro messaggio di divulgazione culturale. Grazie mille. Vittoria, Alice, Alice, Elisabetta, Giulia, Maria di Battenberg, era questo il suo nome completo, nacque nel lontano 1885 nel castello di Windsor, alla corte della sua bisnonna, la famosa regina imperatrice Vittoria del Regno Unito. Era la figlia di due principi minori, Luigi di Battenberg, proveniente da un ramo morganatico degli Assia, e la principessa Vittoria Alberta d'Assia, la figlia di Alice del Regno Unito, figlia prediletta di Vittoria. Pur nascendo in una famiglia minore senza troppe risorse economiche, Alice di Battenberg aveva parentelle di tutto conto. Oltre alla citata bisnonna, le sorelle di sua madre sarebbero diventate l'ultima tragica zarina Alessandra di Russia e la martire granduchessa Elisabetta Fiodorma. La vita di Alice sarebbe potuto essere la classica vita di una principessa fatta di cotion e balli, ma crescendo la bambina mostrava dei segni di ritardo nel linguaggio, finché non ci si rese conto che la piccola aveva un handicap rilevante. Era quasi completamente sorda. La madre tuttavia la spronò ad imparare il linguaggio labiale e così imparò sia l'inglese sia il tedesco. Nell'agosto del 1902, un anno dopo la morte della bisnonna Vittoria e in occasione delle cerimonie di incoronazione del suo prozio Edoardo VII, Alice incontrò il suo principe azzurro, Andrea di Grecia e Danimarca, figlio minore del re di Grecia. I due si piacquerò subito, Alice imparò a leggere il labiale anche in greco e i due si sposarono con cerimonia civile il 6 ottobre 1903 a Darmstadt, in Grecia la religione cristiano-ortodossa, e il giorno seguente furono comunque celebrate le cerimonie delle rispettive chiese, ovvero quella luterana e greco-ortodossa. La sua vita a questo punto sembrò proseguire normalmente. Ebbe quattro figlie, divenne attivo membro della vita alla corte in Grecia e si impegnò nella beneficenza. Inoltre viaggiava parecchio, dai parenti inglesi, dai parenti tedeschi e in particolare nell'impero russo dalle sue zie, e durante questi viaggi partecipò alla posa della prima pietra nel convento fondato da sua zia Elisabetta Fiodorovna. Al ritorno da uno di questi viaggi tuttavia trovò la Grecia in subbuglio. La Grande Guerra era scoppiata e suo cognato, re Costantino, Costadinos in greco, cercò di mantenere la neutralità. I bombardamenti portarono Alice a nascondersi con le figlie nelle cantine del Parazzo Reale e in seguito la situazione divenne tanto critica che la famiglia reale greca fu costretta all'esilio. Nel 1920 tornarono brevemente in Grecia e a Corfu nel 21 nacque il suo ultimo genito, il più famoso, il principe Filippo. Probabilmente la grave situazione greca, il perenne fuggire, il non avere mai una vera casa e la barbaro uccisione delle zie e delle cugine russe, le provocarono un gravissimo collasso ai nervi, il quale la portò a ricorrere a molte case di cura in Germania. La sua grave situazione la portò a separarsi da Andrea e non poté quindi partecipare ai matrimoni delle figlie con i principi di varie casate tedesche. Alice avrebbe rivisto la famiglia in un momento tragico. Nel 1937, infatti, sua figlia Cecilia, sposata col cugino Donato D'Assia, nel recarsi a Londra con marito e figli trovò la morte in un incidente aereo che uccise tutti i passeggeri. Durante il funerale rivide il marito e soprattutto il suo Filippo, ormai adolescente e affidato alle cure dello zio Luigi di Battenberg. Ormai qualunque donna avrebbe ceduto al dolore, ma non Alice. Riabilitatasi dopo anni di cure da quella che sembrava schizofrenia, tornò in Grecia, abitando con la cognata Elena Romanova e dedicandosi alla cura dei più bisognosi, vivendo lontano dai fasti di corte, dai diadeni e dai galà. Durante il secondo conflitto mondiale, mentre i nazisti la credevano alleata a causa delle origini tedesche e di due generi membri delle SS, Alice diede rifugio ai Cohen, una famiglia ebrea che altrimenti sarebbe stata certamente deportata nei campi di concentramento e organizzò mense per i poveri che durante il conflitto rischiavano di morire di fame. La vita di Alice però era ancora lunga e piena di sorprese. Infatti, nel 1947, suo figlio Filippo, il più piccolo e il più trascurato, sposò la futura donna più potente del mondo, la principessa Elisabetta, la futura Elisabetta seconda. Alice, forse per farsi perdonare da anni di lontananza, regalò a Filippo un diadema di diamanti per farne un anello di fidanzamento per la sua Elisabetta. L'anno seguente, la donna, ormai vedova e sola, decise di proseguire il sogno di sua zia Elisabetta, fondando un convento ortodosso e lasciando sbigottita l'anziana madre. In effetti, era qualcosa di insolito vedere una suora con una sigaretta che viaggiava per il mondo alla ricerca di fondi per il suo convento. Nel 1952, durante l'incoronazione della nuora, sfilò per Westminster vestita con l'abito del suo ordine. Pur invecchiando, pur divenendo sempre più sorda e malata, al primo posto nei suoi pensieri vi erano i suoi bisognosi in Grecia, che nel 1967 dovette lasciare a forza a causa del colpo di stato dei colonnelli che rovesciò il pronipote Costantino II. Alice finì a vivere presso il figlio a Buckingham Palace e qui trovò la morte nel 1969, circondata dagli ultimi figli superstiti e dal fratello Louis Monbatten. La donna non lasciò nulla in eredità ai suoi già ricchissimi figli e nipoti, aveva donato agli altri tutto ciò che possedeva. Secondo le sue ultime volontà fu sepolta a Gerusalemme, dove nel 1994, alla presenza dei figli il duca di Edimburgo e Sofia del Nover, fu onorata come giusta fra le nazioni. Di Alice si è sempre parlato poco, nonostante sia stata una donna fuori dal suo tempo, forse perché dava più importanza ai bisogni degli ultimi e non ai titoli nobiliari. Grazie a tutti!